ciao a tutti e benvenuti al terzo video dedicato al canto armonico come vi ho detto nel video passato oggi vi darò due dritte per cominciare ad intonare gli armonici della vostra voce magari utilizzarli in modo artistico ringrazio tutte le persone che mi hanno scritto domande sotto i video hanno condiviso il video e sono contento che questo tipo di tipologia di video possa essere utile a chi si approccia questo tipo di tecnica sigla e poi cominciamo con le dritte appunto che vi darò per cui per intonare gli armonici della vostra voce ovviamente rispetto agli armonici gli argomenti potrebbero essere tantissimi e molto interessanti il video che sto facendo ora per voi è un video in realtà molto pratico quindi vi permette con poche nozioni poche ma utili nozioni vi permetterà di cominciare subito a praticare ad intonare vi invito comunque ad approfondire il discorso sugli armonici perché è molto molto interessante però in altra sede diciamo non in questo video i discorsi sarebbero tanti ma qua abbiamo bisogno di concentrarci su poche cose pratiche scusate l'inquadratura so che non è delle migliori si vede anche l'ombra della telecamera ma tant'è insomma deve essere utile praticamente qua vediamo vi ho scritto delle vocali con sotto il numero dell'armonico a cui si riferiscono in realtà ho messo primo pensando ai nove armonici dal quarto dodicesimo il primo armonico con la u in realtà è il quarto ok li ho numerati dal 1 a 9 gli armonici che andremo a utilizzare adesso quindi il primo è il quarto il terzo è il sesto eccetera eccetera allora vediamo perché abbiamo scritto delle vocali con sotto il riferimento con sotto segnati gli armonici con cui corrispondono perché se noi manteniamo il lavoro articolatorio che abbiamo visto nel canto armonico due cavità quindi mantengo la mia lingua che divide la mia bocca in due cavità la punta tocca il palato la pancia abbassata come nella l e provo a richiamare l'articolazione di queste vocali che vi ho segnato qua sentiremo nascere un armonico corrispettivo quindi se io mantengo la posizione del due cavità alla u corrisponderà sempre solo l'armonico il quarto armonico rispetto alla fondamentale quindi il primo che possiamo utilizzare cantando eccetera eccetera quindi vediamo un attimo le vocali u quarto armonico primo armonico che possiamo cantare che numeriamo così da 1 a 9 quelli che possiamo utilizzare adesso dal quarto al dodicesimo u poi abbiamo la o che abbiamo il terzo armonico quindi il secondo armonico sarà proprio lì posizionato tra la u e lo quarto abbiamo la o chiusa o la io sono romagnolo quindi la o di foglio diciamo per capirci poi diamo la a e che è la e aperta da leggere come è aperta di terra di festa poi abbiamo la e chiusa invece e alla fine la vedete che gli unici due che non sono segnati in questa tabellina che vi ho fatto velocemente ma spero sia utile sono il quinto armonico quindi il secondo che possiamo cantare tra la u e lo si trova esattamente lì a metà e poi l'ottavo armonico tra la e e anche questo si trova esattamente lì a metà da cantante voglio dirvi anche due cosine prima di farvi sentire la scala rispetto alle vocali e l'esercito che abbiamo fatto nel canto armonico a una e due cavità è sempre stata quella di è sempre stato quello di muoverci dal tra la u dalla u alla i cosa significa muoversi a livello articolatorio con la nostra voce da questa partendo dalla u è arrivando fino alla i diciamo muoversi lungo il percorso tracciato fra queste due vocali significa nella pratica muoversi dal verticale dalla verticalità all'orizzontalità la u è la vocale che nella quale possiamo riscontrare il maggior affondo naturale quando io canto una u o anche osservo una u a livello parlato posso notare che la mia laringe si abbassa naturalmente ed è una vocale che più di tutte diciamo è in accordo con la verticalità del nostro corpo mano a mano che mi muovo dalla u verso la i mi sposto dal dal verticale all'orizzontale ok quindi con la u il mio suono è naturalmente ricco di armoniche medio basse la mia laringe si abbassa un po quindi un suono collegato anche al mio corpo al mio torso e mano a mano che mi muovo verso la i comincio a sentire che il suono diventa sempre più squillante ok naturalmente va lo sentiamo lo sentiamo vibrare di più nella zona di testa e questo è proprio il percorso attraverso il quale noi ci muoviamo quando andiamo a intonare i nostri armonici dal verticale all'orizzontale ok ora provo a farvi sentire come suona questa scala che vi ho disegnato diciamo così qua vi ricordo ancora che ho nominato dal primo non armonico gli armonici in realtà che sono dal quarto al dodicesimo armonico quelli che vengono prevalentemente utilizzati si può arrivare a intonare fino al sedicesimo armonico ma ovviamente dopo il dodicesimo si sentono un po meno forti diciamo che già se riusciamo a intonare dal quarto dodicesimo in modo corretto già sarebbe un'ottima cosa allora bene in ultimo spero che questi video che sul canto armonico che ho fatto possono essere stati veramente utili per voi perché si vuole perché si vuole approcciare a questa tecnica spero riusciate con quest'ultimo video anche a cominciare a intonare gli armonici della vostra voce come sempre scrivetemi sotto i video e fatemi sapere come vanno i progressi e se ce ne sono la cosa che ci tengo a specificare come ho fatto anche nel primo video visto alcune incomprensioni che ho letto nei commenti sotto questi video dedicati appunto al canto armonico che la definizione canto armonico è volutamente generica non fa altro che diciamo spiegare la modalità con cui noi possiamo scomporre il nostro suono vocale far sentire gli armonici della nostra voce non è una modalità specifica di canto armonico non c'entra nulla tuva non c'entra nulla l'asia c'entra semplicemente il modo con cui possiamo appunto ripeto per la quarta volta scomporre i suoni della nostra voce esistono ovviamente tantissimi modi per far sentire gli armonici fortunatamente esistono tantissimi etnomusicologi che li hanno registrati anche qua vorrei ricordare Tran Quangai un video bellissimo che lui registrò in africa dove si sente questa donna che utilizza una tecnica che può rientrare tranquillamente nella modalità del canto armonico appunto dove sfrutta gli armonici della sua voce quindi le modalità le troviamo ovunque molto diverse fra loro però in tante parti del mondo fra queste sicuramente una delle modalità più conosciute è quella di tuva ma non è assolutamente l'unica e non è quella che insegno ci tengo a specificare un'altra cosa nella modalità tuvana il suono che viene scomposto è un suono comunque è un suono compresso tipo questo anche se non è questo l'esatto però tipo questo ok scomponendo un suono di questo tipo è come se aumentassimo la distanza fra la nota fondamentale il suono che andiamo a scomporre e le zone in cui nasce e si sviluppa l'armonico quindi comprimendo il suono originale che andiamo a scomporre creiamo maggiore distanza l'armonico pare risuonare di più gli esempi che vi ho fatto sentire io sono quelli invece in cui sono andato a scomporre una voce che ha la caratteristica diciamo della voce delle voci a cui noi siamo più abituati c'è una voce non compressa all'origine non sporcata in nessun modo all'origine che a cavallo fra le tre zone di risonanza quindi faringe bocca e zona nasale diciamo fosse nasali ok quindi anche il classico obiezione che viene fatta usi troppo il naso usi poco il naso eccetera c'è differenza fra un suono completamente nasale un suono nasalizzato quindi che sfrutta anche le zone nasali nelle quali gli armonici acquistano corpo e volume quindi ovviamente è giusto dire che non dobbiamo utilizzare un suono completamente unicamente nasale estremamente nasale ma è illogico dire che non si usa il naso nel senso che noi utilizziamo comunque un suono nasalizzato che va a sfruttare anche quelle zone di risonanza dopo queste brevi spiegazioni ulteriori continuate a interagire col canale continuate a iscrivervi sono molto contento nel mio piccolo di quello che sta succedendo in questo canale vedo sempre maggior interesse anche condivisione del video eccetera e nulla ci vediamo il prossimo martedì per un video che farò in risposta alle domande che ho trovato sotto i video così come avevo detto un video fa quindi cercherò di dare la mia risposta e cercherò che le mie risposte siano in un qualche modo utili se riesco però per la prossima settimana anche vorrei fare un video che affronti un altro degli argomenti sulla voce che mi sono prefisso di affrontare quindi vi ringrazio tanto e ci vediamo la prossima settimana ciao